Il dossier migranti in realtà non è sul tavolo del G7, ma è sicuramente al centro degli incontri bilaterali che si sono svolti tutta questa mattina. Sui migranti l'Italia non intende muoversi da sola, ma inserita nel quadro europeo e la Germania le darà appoggio nella gestione dei flussi ed è pronta anche a fare da mediatore con la Francia per le tensioni che continuano ad esistere con il nostro paese. Sono indiscrezioni che sono filtrate da fonti della delegazione tedesca dopo l'incontro che c'è stato tra il nostro ministro Matteo Piantedosi e la padrona di casa, la ministra tedesca Nancy Fesa. Al centro delle discussioni è anche tutto quello che serve per la lotta alla criminalità, per fermare gli attacchi cibernetici, soprattutto per fermare la pedofilia in rete. Ma da parte tedesca si dice che la Germania potrebbe imparare molte cose dall'Italia sulla lotta al riciclaggio e anche sul limite all'uso del contante linea a Roma.